Buonasera signore e signori, sono Esce88, benvenuti con l'ottava parte della nostra serie, della nostra guida, la Nazlook Challenge Quest'oggi mandiamo cappero davanti e riproseguiamo appunto dopo averci lasciato la pista ciclabile verso il percorso 206 Allora, la prima cosa da fare è che qui troviamo due baccalampon che non so cosa fanno assolutamente E poi devo anche togliere di paralisi, antiparalisi, vaniglia, ok E quindi adesso possiamo andare qua giù di sotto, tagliare questi alberi e poi potremo andare a catturare il pokemon nel percorso 206 Allora, io non so appunto che pokemon si troverà, io spero che sia un po' al verso Qua c'è un albero, non l'avevo mai notato questo, per vedere che cosa c'è qui, uno strumento Sì, un pipisù, non l'avevo mai notato, ganzissimo Ok, quindi il nostro incontro nel percorso 206, se apparirà qualche pokemon Vediamo un po' chi sarà Vediamo È un geodude che abbiamo già, quindi non catturiamo Ok, quindi riprendiamo Là c'è un avventuriero, voglio aspettare un secondo prima di sfidarlo Vediamo un po' chi sarà Un matchup, che però purtroppo abbiamo già Quindi abbiamo un altro tentativo Vediamo l'ultimo Un geodude, quindi non cattureremo, almeno Cioè, non possiamo catturare, perché ci sono tre tentativi Non possiamo catturare nessun pokemon nel percorso 206 Credo che al massimo possa apparire Forse, se non mi sbaglio Ponytan, forse ci sarà Boh, comunque sì, mi ricordo che Se era questa, perché appunto è passato un po' di tempo Dov'è il... Ecco, condivido esperienza Diamolo a capro Quella là sul... se noi si prosegue a dritto, dopo ve lo farò vedere Si andava... si andava... oh, un gliger, però non possiamo catturarlo, mi dispiace Si andava in una grotta In cui dentro, mi sembra, si poteva catturare anche Gible Che era... ah no, questo non è un avventuriero normale Non vuole essere sfilato qua Ci sono due baccafrago Queste me le ricordavo E mi sembra, se non mi sbaglio Che quella era la grotta dove poter catturare appunto Gible Che era il pokemon drago Quindi, io ora ci provo a vedere Se magari mi ricordo, mi appare O se era per là, insomma Perché, insomma, sarebbe... Ganzo, insomma, catturarlo E poi portarcelo avanti Però, sempre se non mi sbaglio Che magari serviva qualche altro strumento per... Per andare a catturarlo O comunque, se dobbiamo utilizzare forza Dobbevamo Affrontiamo questo avventuriero Che ha due pokemon Un onyx A livello 18 Credo che sarà... Molto difficile È sicuramente veloce onyx Però, ovviamente, il cetriolo lo abbatte Cap per usare a livello 20 Un altro onyx Usa sassata E ci toglie anche un bel po' però Perfetto Allora, a questo punto dobbiamo curare... Ehm... Va bene Non abbiamo finito anche le pozioni Curiamo un secondino cetriolo E proseguiamo Ehm... Ecco il fatto di vedere Mi ricordavo che si poteva trovare anche ponita All'interno di questo percorso Dai che... Devo far salire... Eh, ti pareva strano Devo far salire cappero di livello al 21 Così almeno si può anche evolvere Ehm... Guarisce Scontatura Perfetto Eccola qua Perfetto Via Proseguiamo Di qua Eccola qua Questa era l'entrata della grotta Poi per tornare indietro Utilizzerò un repellente Cioè non ho punta voglia di fare Come adesso Eccola qua La grotta labirinto era Mi ricordavo infatti che C'era qualcosa E dato che siamo entrati però nella grotta labirinto Che è un nuovo percorso E si attiva la Nazeluke Challenge Dobbiamo catturare a questo punto bronzer Verrà catturato Anche perché Siamo entrati qui dentro Quindi è un nuovo Eh, ti pareva strano che ci addormentasse Sa utilizzare solo esclusiva E ipnosi Eh, vabbè Allora Anche extra senso Non ci toglie molto Però Vediamo Ok Usiamo una Pokéball Anzi una Reteball Vai, che è blu Come il bronzer Perfetto Dobbiamo catturare anche bronzer Che viene Mandato nel Pokéde Pokéde Nel box E lo chiameremo Vediamo un po' Eh, come lo possiamo Tonno Tonno è No, tonno no Tonno, tonno Tonno è carino dai Avrei preferito chiamare qualcun altro tonno Tipo Ghibo Perché ha la faccia un po' più da tonno Però va bene Allora Usiamo innanzitutto Una super pozione Su Cedriolo E poi non abbiamo L'MTD Flash Quindi non Non mi ricordo nemmeno Qual era il percorso da fare Ma sicuramente Mi sto sbagliando Magari Non era proprio qua È il punto Però vabbè Eh, magari andremo a catturarlo Nelle prossime puntate Più avanti Eh, magari si cambia anche il percorso Quindi Utilizziamo a questo punto Un super repellente Per rifare il percorso da capo Allora Guardiamo qui a sinistra C'era uno strumento infatti E E C'è un veleno aculio Buono Potenza l'emosi tipo veleno E ieri Proprio ieri Ho visto che L'Italia Quindi questa cosa Mi mette un moto d'orgoglio L'Italia comunque sia In generale E questo ragazzo Italiano appunto È diventato Campione del mondo Dei Pokémon Cioè C'era una sfida proprio Per quanto riguarda Il Il gaming Il competitive Appunto Eh Internazionale Era un torneo E La finale Era tra un italiano Ash Non mi ricordo come si chiama Comunque sia Era Il La finale Contro un giapponese E abbiamo Assolutamente vinto Quindi siamo diventati Campioni Del mondo È stato divertente Vedere Più che altro La strategia Che stava Utilizzando Comunque sia Le tattiche Che Eh si va bene Ho usato Due volte Scintilla E Mi abbatto Ma che cosa sei? Mamma mia È impossibile Da abbattere E Usava Tuondurus Fungurus Poi ha utilizzato Aspettate che Adesso me ne ricordo Ah Piloswine No Mamoswine Scusate E poi ce n'era un altro Che ora non mi ricordo Che non l'ha messo Cioè non l'ha Praticamente utilizzato E devo dire Che è stato Veramente un pro Cioè è riuscito A mettere in difficoltà Questo Questo giapponese Che stava utilizzando Praticamente quasi tutti Uber Cresselia Eccetera eccetera Quindi Era anche Secondo me Anche stronzo Perché Utilizzi quel pokemon Vabbè E Comunque sia Abbiamo vinto Abbiamo vinto Questo Questo terneo Quindi siamo Siamo Io mi sento italiano Cioè io sono italiano Quindi in parte È come se Mi sentissi quasi Campione del mondo Anche io E E quindi nulla Ha vinto È riuscito a vincere Due incontri Su tre Quindi Praticamente la matematica Non è un'opinione Ed è riuscito appunto A portarsi a casa Il trofeo Di campione del mondo Utilizzando strategia Che È una cosa spettacolare Addormentava I pokemon Nemici Ovviamente Cresselia E un altro Che non mi ricordo Ma erano sempre Uber Per poi dopo Iniziare ad attaccarli Piano piano Quindi Cioè È stato anche bravo A sconfiggere L'avversario Con una tattica Magari Alcuni può essere Noiosa Perché dice Eh ma Cioè Li fai addormentare Con Cospora Eccetera eccetera Però Secondo me Ha fatto Benissimo Poi Non so Non so voi Magari Ditemi un po' Cosa ne pensate Allora Abbiamo sconfitto L'avventuriero Io pensavo che Il nostro Eh Capro Si evolvesse Quindi no A questo punto Dovremmo mandare Avanti farina Ok Al posto di Cetriolo E mi sembra che qua Arrivi l'usinda Eccola Infatti Ciao Ciao Nazra Come va Io mi prendo Sono un po' L'amorato Ma qui Ho una cosa Perfetto Cioè E' uguale Se prendendo la sinistra O la destra E' la stessa cosa Non c'entra niente Vi li da tutti e due Gli strumenti Comunque sia Una volta Che avrà finito Ci darà Il cerca sfide E il Il detector Ovviamente Il detector Si può attivare Da questa parte La parte in basso Forse Gible si trovava Per qua Cioè nel senso In questa zona qua Ehm Comunque sia Io Vi do l'appuntamento Alla prossima parte Intanto spruzziamo Un repellente Così Per la prossima puntata Già ci sono Ehm Come al solito Vi dico Votate Commentate Iscrivetevi Ehm Ditemi un po' Cosa ne pensate Se avete già visto Il video della finale Altrimenti Cercherò il link Ve lo metto in descrizione Ehm Nella Come si dice Nella descrizione Di questo video Quando ovviamente Ve lo upload Ehm Votate Commentate Iscrivetevi Un ciao Ciao ragazzi